Una maxi operazione coordinata da quattro procure antimafie dalla direzione nazionale ha portato a 71 misure cautelari di cui 56 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni per circa un miliardo di euro. L'operazione Petrol Mafia è scattata questo giovedì mattina frutto di quattro diverse indagini delle procure di Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli e Roma. Le prime due hanno operato sul versante dell'Andrangheta, le altre sul fronte camorristico. Tra i rati contestati associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscali di prodotti petroliferi. Dall'indagine è emersa la gigantesca convergenza di strutture e pianificazioni mafiose originariamente diverse nel business dell'illecita commercializzazione di carburanti e del riciclaggio di centinaia di milioni di euro in società petrolifere intestate a prestanome. Il sistema di frode consisteva nell'importazione dall'Europa orientale principalmente di prodotti petroliferi, artefatti e oli lubrificanti. Questi venivano poi messi in commercio come gasolio per autotrazione, una categoria merceologica di maggior valore soggetta a un'accisa superiore, che produceva così guadagni più elevati.